Ciao a tutti! Oggi prepareremo la vanillina. Il tempo di preparazione della ricetta è di 35 minuti circa. Gli ingredienti sono bacche di vaniglia biologica tagliata a pezzetti e zucchero semolato. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la vaniglia tagliata a pezzi e li facciamo dostare per 30 minuti 80 gradi antiorario velocità due. A questo punto aggiungiamo lo zucchero e lo facciamo polverizzare per un minuto a velocità 10. La vanillina è pronta posizioniamola in un barattolo di vetro. Vanillina si conserva in dispensa per circa 10-12 mesi. Una dose corrisponde ad un cucchiaino. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti!